il secondo pilastro che possiamo ricavare dal mito è la pietas cioè la devozione agli dei alla patria e alla famiglia essa nel mito è rappresentata da rea silvia i progenitori dei romani romolo e remo sono figli di una vestale la sacerdotessa della dea vesta a cui spettava il compito di mantenere sempre acceso il fuoco all'interno del tempio dedicato alla dea poiché dedicavano tutta la loro esistenza al culto della dea le vestali erano per così dire l'incarnazione stessa della pietas non è un caso quindi se il popolo romano rivendicava se il primato nella devozione religiosa il grande statista cicerone diceva che in altri campi i popoli stranieri potevano essere alla pari o persino superiori ai romani ma dal punto di vista del culto divino questi ultimi vincevano ogni altra civiltà nel nostro percorso dedicato alla storia romana ci soffermeremo sui caratteri distintivi della religione e sul suo rapporto con la sfera politica